Cari amici ben ritrovati a questo calcione, siamo qui in compagnia del numero 9 dei BM Costruzioni, Francesco Gallo, autore di una memorabile manita. Francesco, quello che hai fatto stasera non si può descrivere a parole, ti chiedo comunque un tentativo. No, è stata una partita dura, abbiamo fatto tanta fatica, quest'anno stiamo facendo fatica, però quando arrivano queste prestazioni personali così positive si può solo essere contenti. Hai intenzione di mantenere questa media goal a partita? Ah beh, assolutamente, questo è l'obiettivo numero 1, però dai si vedrà come andrà, cioè giochiamo tutto martedì prossimo e vediamo se riusciamo ad arrivare nel semifinale. Perfetto, con la prestazione di stasera secondo me tu sei già in lista per la classifica marcatori? Eh, sì, è un obiettivo che ho sempre cercato in tutti gli anni che ho giocato, purtroppo non ci sono mai arrivato, speriamo che sia l'anno buono dai. Ok, speriamo in bene, allora anche per stasera è tutto, Francesco Gallo, questo è il Calcione 2018.